bentornati su 360.fluido.tv oggi vedremo come creare un'esperienza VR con oculus quest nel mio caso con oculus quest 2 e unity nella versione 2020 ovvero l'ultima versione lts ovvero long term support che ha seguito i tutorial pubblicati circa un anno fa di creare un'esperienza VR per oculus quest con unity aveva una parte dedicata all'exar rig con l'avvio ovvero con la release dell'ultimo interaction tool che la versione 2.0 l'exar rig è diventato exar origin ci sono state delle modifiche questo progetto che andremo a fare creare un'esperienza VR per oculus quest con unity utilizzerà il nuovo sistema l'exar interaction toolkit 2.0 e vedremo come funziona e quali sono le differenze come prima cosa andiamo su unity hub abbiamo installato ovviamente nostro hub andiamo a verificare la versione che andremo ad utilizzare io utilizzerò la 2020 3.0 25 lts questa versione qui ha ancora il metodo di installazione l'exar toolkit l'interaction toolkit in modalità tra virgolette vecchia nel senso che abbiamo il package manager non faccio con la 2021 che è l'ultima release di unity perché tendo sempre a creare i progetti con la lts così sono sicuro che con l'lts o almeno due anni circa di di supporto per quanto riguarda il l'upgrade ovvero gli update di unity 20 20 e la release la 3 e la minor release 25 invece sono i numeri di release che hanno sono legati a dei delle correzioni bug perciò se avete una 20 20.3 è la versione che noi andremo ad utilizzare in questo tutorial per installarla se non avete ancora installata basta cliccare su ed dove ci sarà l'elenco delle versioni che potete installare la recommended release ovvero la il la release raccomandata e la 20 20.3 25 lts c'è anche la beta ma consiglio sia la release ufficiale la 20 21 che la 20 22 utilizzare solamente per i test o fare dei test con i nuovi sistemi oppure per prepararsi agli upgrade successivi dei progetti che andremo a fare altra cosa importante deve essere attivo l'android build support all'interno del nostro della nostra installazione se non ce l'abbiamo basta cliccare sui tre puntini add modules e attiviamo android build support con i due le due voci spuntate android sdk ndk e open jdk una volta fatto questo siamo pronti per partire ci spostiamo nella finestra projects dove andremo a creare un nuovo progetto e quando clicchiamo new vediamo che la mia versione sarà 20 20.3 25 quella che voglio avere come base per questo progetto se eventualmente abbiamo una serie di magari non è la 20 20 possiamo tranquillamente selezionare questo bottoncino laterale ovvero la freccina che apre il menu e mi dice che con che versione voglio attivare ovvero voglio creare il mio progetto in questo caso 20 20.3.25 apre la finestra templates dove andrò a selezionare il template che utilizzerò nel mio caso utilizzerò l'urp la universal render pipeline è ottimizzata per l'utilizzo su mobile oculus quest 2 è di fatto un android perciò andremo ad utilizzare questa versione della render pipeline ottimizzata per per il discorso proprio di del mobile perché di fatto il quest è diciamo una sorta di smartphone evoluto project name inseriamo il nostro nome allora war quest 20 22 e come location io ho una cartella dove salvo tutti i progetti che vado a creare con unity e questo potete selezionare voi selezionando cliccando qui e selezionando la cartella dove desiderate o l'hard disk dove desiderate salvare il vostro progetto clicchiamo su create ci starà un po di tempo perché deve oltre a creare il progetto va ad importare tutta una serie di file dell'urp perché importa anche una scena del una scena prestabilita dove ci sono degli elementi per mostrare come funziona l'urp unity aperto adesso sta facendo ancora la conversione ovvero l'adattamento delle texture dei materiali all'urp attendiamo che finisca tutto il lavoro vediamo qua sotto sta ancora lavorando gli uniti per adattare al pipeline perciò sta facendo anche il baking dell'illuminazione attendiamo che finisca il suo lavoro e poi procedere con l'inserimento dell'exar management ovvero diremo agli uniti che questo progetto sarà un progetto vr come prima cosa però andiamo a nei build settings file setting andiamo a selezionare la piattaforma abbiamo detto che il nostro quest 2 equivale a un android perciò andremo a selezionare nella piattaforma android e attiveremo la textual compression astc questo lo vedremo sulle textual compression come fare la compressione come ottimizzare la resa grafica di quest farò un video ad hoc così vedremo tutte le caratteristiche tutte le impostazioni che andremo ad inserire per ottimizzare la visualizzazione e renderla molto evitare alcuni problemi che noi comunque li vedremo in questo momento però questa parte è dedicato farò un video dedicato solamente alla texture compression alla gestione materiali e di shader dedicati all'oculus quest run device vedete qua posso avere la possibilità di un default device quello che è collegato oppure posso già selezionare il mio quest 2 che è collegato via link al mio computer una volta selezionato questo posso cliccare su switch platform ci starà qualche secondo per convertire tutto il materiale perché andrà a convertire anche la scena del progetto e lo adatterà per android e il fatto di aver selezionato oculus quest 2 nel run device mi permette di creare la build e copiarla direttamente sul device ovvero sul mio quest build and run mi permetterà di creare la build e poi in automatico verrà salvata senza fare un side load magari con adb o altri sistemi che abbiamo che abbiamo che utilizziamo per caricare i nostri apk sul su quest una cosa importante il l'oculus quest 2 deve essere attivato in modalità developer ovvero sviluppatore e lo si fa attraverso la app di oculus dove avete registrato il vostro il vostro headset attendiamo ancora qualche secondo e adesso ha finito la conversione ovvero ha switchato sulla nuova piattaforma ovvero android e vedete l'icona di unity passata da pc ad android e questo possiamo anche chiuderlo oppure possiamo cliccare direttamente su player settings andare ad inserire alcune cose allora prima cosa possiamo attivare l'exar plugin management ovvero questo permetterà di gestire ovvero dirà a unity che il nostro progetto sarà un progetto exar ovvero in realtà virtuale perché exare quel termine cappello che definisce la realtà virtuale a realtà aumentata e la realtà mista perciò clicchiamo su install exar plugin management e in questo momento sta caricando tutti gli elementi componenti che andranno a gestire e che gestiranno su unity il l'ambiente exar attendiamo ancora qualche secondo e vediamo che nella nostra versione android gli android settings abbiamo la possibilità di attivare dei plug in questi plug in sono i plug in provider ovvero sono i software che gestiscono i vari device le varie modalità air core per quanto riguarda AR ovvero augmented reality quello che ci interessa in realtà è oculus cliccando su oculus va a scaricare tutti i plug in e tutti i software e tutti gli script per la gestione del nostro device oculus quest aspettiamo che carichi tutti gli elementi e adesso possiamo attivare anche nella versione pc come vedete qui abbiamo la possibilità di cliccare su oculus oppure abbiamo anche l'open xr magari sull'open xr farò un video ad hoc che non c'entra con oculus in questo caso perché è sempre legato al oculus intendo come stand alone perché tutti i setup che noi stiamo facendo in questa lezione sono dedicati al pc via ovvero all'oculus collegato ad un pc attraverso il link perciò diventa di fatto l'equivalente di un rift o di un vive per di un visore collegato ad una macchina l'open xr ha anche la possibilità di attivare per altri device perciò creo un unico progetto e posso poi declinarlo sui vari device che voglio utilizzare verifico che sia attivato oculus vedo tutte le cose sono a posto qua non dobbiamo toccare niente vedete target device quest o quest 2 lasciamo tutti i due attivi se volete semplicemente per il quest 2 però poi il progetto probabilmente avrà dei problemi con il quest perché magari non riuscirà perché è un po' meno potente del quest 2 il nostro visore target è il quest 2 allora possiamo anche disabilitare la spunta vicino a quest altra cosa che dobbiamo fare è nel package manager già che siamo ai project settings attiviamo i preview packages perché andremo ad utilizzare il nostro xr interaction toolkit che non è ancora un package rilasciato ma è ancora in preview quando attiviamo l'enabled preview packages dice che è in early stage of development ovvero che sta ancora e ancora in fase di sviluppo da parte dei programmatori non è ancora pronto per la produzione però di fatto l'exr interaction toolkit funziona perfettamente io non ho avuto problemi di sorta per quanto riguarda anche su produzioni definitive clicco su i understand e adesso passiamo alla window package manager dove andremo ad installare il nostro xr interaction toolkit come vedete qui abbiamo la possibilità di attivare i vari package in questo caso in project e qui abbiamo tutti i package che sono attivati all'interno del nostro progetto ma noi servirà unity registry e unity registry sono tutti i package inseriti nel registry di unity e alla fine abbiamo xr interaction toolkit possiamo scendere giù in basso oppure possiamo anche scrivere xr nel campo di ricerca e abbiamo xr interaction toolkit vado ad installare l'interaction toolkit mi dirà di fare un restart del software perché ovviamente va a modificare il sistema l'input system che utilizzava prima che era device based e lo passerà col nuovo input system che è action based infatti mi sta dicendo questo warning che questo progetto sta usando il new input system package però devo modificare determinate cose clicco yes non devo fare nulla di fatto lo fa tutto in automatico e adesso mi chiederà di riavviare però prima di fare un backup in questo caso non abbiamo non stiamo convertendo un progetto preesistente perciò non abbiamo bisogno di fare un backup e diciamo che abbiamo fatto già il backup intanto non è il backup di nulla perché ovviamente abbiamo iniziato un progetto nuovo attendiamo il reload del nostro ricaricamento del nostro progetto in unity aspettiamo qualche secondo e poi possiamo procedere con le altre impostazioni e gli altri setup allora abbiamo build settings e possiamo chiuderlo siamo all'interno del package manager questo anche possiamo chiuderlo e torniamo nel nostro package manager scusate prima era il preset ovvero le preferences adesso torniamo nel nostro package manager e se clicchiamo su in project vediamo che è stato aggiunto XR Interaction Toolkit abbiamo installato la versione 2.0 che è la nuova versione perché ovviamente utilizziamo l'ultima release del XR Interaction Toolkit che quella se come vi ho detto prima sostituisce l'XR Rig con XR Origin perché va ad integrare anche tutto il discorso della realtà aumentata con Air Foundation insomma questo è un altro discorso che non affronteremo in questo video una volta installato e verificato che l'XR Interaction Toolkit si è installato all'interno del mio package posso importare le default input actions queste actions sono le azioni che poi andranno ad essere collegate ai controller e al headset fatta questa default input actions vediamo che all'interno del mio finestra progetto ho i vari elementi sample XR Interaction Toolkit con i vari input actions e quello che devo fare è semplicemente selezionare l'input action e cliccare su add to action base continuous move provider default in pratica questo attiva ovvero aggiunge queste queste azioni questi componenti al mio XR Rig ovvero quello che era una volta l'XR Rig di base ovvero l'XR Origin aggiungo left and right controller e anche snap turn provider una volta fatto questo vado torno nel mio project settings e vado nel preset manager e l'ultima cosa che devo fare è scrivere right nel action base controller del preset manager e left questo per dire al mio iUnity che uno è il right ovvero il destro e uno è il sinistro chiudo la mia finestra clicco su tasto destro all'interno della gerarchia e vado ad inserire l'XR Origin Action Based questo andrà a creare un XR Origin e l'XR Interaction Manager cancellerà la main camera perché creerà una nuova main camera all'interno della camera offset e sarà la nostra view ovvero la nostra view del headset poi avremo left hand controller con tutti gli elementi le azioni legate al left hand controller e right hand controller con tutti gli elementi legati al right hand se eventualmente avete qualche problema che magari non prende i due left hand e right controller potete tranquillamente trascinare anche gli elementi che mancano all'interno del mio ovvero all'interno del componente XR controller prima di partire a verificare che tutto funzioni dobbiamo dire all'XR Interaction Manager che il mio XR Origin ovvero il mio rig il mio visore utilizzerà le input action che abbiamo appena inserito perciò seleziono XR Interaction Manager clicco su add component seleziono input action manager e all'interno di questi action assets posso fare due cose o clicco su più e poi vado a selezionare XR Default Input Actions oppure posso tranquillamente trascinare all'interno il mio XR Default Input Actions adesso noi abbiamo sistemato abbiamo fatto il setup totale del nostro XR Rig quello che era una volta l'XR Rig, ovvero l'XR Origin, il nostro rig per l'XR e adesso possiamo solo verificare che tutto funzioni indosso il visore, prendo il controller e metto in play e dovremmo vedere all'interno del progetto adesso ovviamente farà il setup il mio visore è attivo come vedete sotto, nella parte sotto il mio visore ovviamente il posizionamento è vicino alla parete ma vedete i due controller e due linee rosse sono i miei controller left and right e questo è tutto per quanto riguarda l'impostazione del XR Rig nel prossimo video vedremo la parte dedicata all'interazione ovvero al movimento in primis sia con il teleport che con il movimento continuo e poi vedremo anche le interazioni con gli oggetti che siano grabbabili, ovvero prendibili con il nostro controller di Oculus Quest e poi vedremo anche le interazioni con il nostro corso